Io mi chiamo Giovanni e il mio cognome è Bombagli, il mio ruolo è il portiere. Il motivo per cui sono finito a giocare in porta non è un vero motivo, perché quando ho iniziato a giocare a calcio non sono partito con il presupposto vado a giocare in porta, però poi con il tempo mi sono trovato bene, una partita provai e da lì sono rimasto in porta. Il complimento è stato da parte del mio allenatore un semplice grazie. Dopo una partita vinta a rigore, una semifinale di un torneo vinta a rigore, è stato un semplice grazie che però dietro a quella semplice parola se nascondevano molti altri significati. Parate belle l'ho vista fare molto, soprattutto in televisione, in serie A, ad esempio quella di Donna Rumma con il Napoli all'ultimo minuto su Milik, però anche ogni tanto mi sembra, pare, che qualcosa ci cavi, insomma, mi riesca a fare qualche bella parata. Ad esempio un rigore parato un anno fa, più o meno, rigore messo sulla destra e all'ultimo minuto si stava solo 1-0 per noi, l'ultimo minuto di parare il rigore e fu una bella emozione, soprattutto perché tutti i compagni vennero a festeggiare con me. Grazie a tutti!